Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi sono di nuovo qui con Baby Born e un nuovo set per l'estate, per lei, la nostra bambolina. E qui vedete il set per il pigiamino estivo, proprio perché ovviamente in estate usiamo un pigiama molto diverso dall'inverno, meno caldo e più fresco. Guardate che meraviglia questo set con la mascherina addirittura per dormire e queste piccolissime crocs verdi, dolcissime, queste pantofoline. Sono veramente carine, ovviamente questo set può essere utilizzato per tutte le bambole che hanno le misure della nostra Baby Born, quindi 43x17 cm. Ora spacchettiamo il tutto e ovviamente vestiamo la nostra piccolina con il pigiama nuovo. E guardate che meraviglia, è molto colorato e ci sono tanti disegni del paperelle, vedete, in varie attività. È rosa e questo colore sull'azzurro verde, un po' non saprei bene come definirlo. È pieno di paperelle, vedete, colorate. Si apre facilmente ed è stupendissimo, veramente molto carino. Poi qui abbiamo, come vi dicevo, le mini crocs, guardate che meraviglia, sono troppo belle di questo verde acceso, con anche le, vedete, queste due placchettine che riprendono ovviamente il vestito e la mascherina fantastica per dormire. È assolutamente un tocco di classe questa mascherina, stupenda, che metteremo ovviamente nella nostra Baby Born. E poi qui abbiamo, come sempre, la gruccia, nel caso ci servisse per tutti i vestiti che ormai abbiamo della nostra Baby Born. Quindi ora la vestiamo e ci troviamo tra poco. Eccola qui, vestita col suo pigiamino, ora le mettiamo la mascherina per la notte. E voilà, occhi chiusi anche per la nostra Baby Born. E ovviamente le mettiamo le piccole crocs. Chiaramente non si usano per andare a letto, però il site lo prevede, quindi noi le mettiamo. Ed eccola prontissima, super super pronta. La nostra Baby Born è veramente una modella ormai, è diventata talmente famosa e vestiti super fashion, che ormai possiamo chiamarla modella già da piccolina. Cosa ne pensate voi? Io adoro questa mascherina, è veramente un tocco di classe per il set. Cosa ne pensate? Anche perché solitamente si usano poco, cioè perlomeno sicuramente gli adulti, ma comunque poco anche per quello. Per chi odia la luce del sole, che magari al mattino filtra e vi sveglia, invece voi vorreste dormire. Beh, questo è l'ideale. Dai, ditemi cosa ne pensate anche di questo piccolo set della nostra Baby Born. Ormai ve ne ho fatti vedere davvero tantissimi, quindi magari ditemi anche quello che preferite. Noi ci vediamo come sempre alla prossima. Io vi aspetto qui, lasciateci un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati con tutte le nostre novità. Ciao! Ciao!